Siamo qui davanti alla Pala Congressi di Taormina, un cantiere a cielo aperto, turisti increduli che passano e cercano di capire cosa stia succedendo a Taormina, mai vista così fino a oggi. Mentre vi parliamo c'è una macchina che sta scarificando la strada alle nostre spalle, all'interno del Pala Congressi invece è il cantiere per ammetterlo in sicurezza e a norma in vista del G7 del 26 e del 27 maggio. Abbiamo dei grandi disagi, ovviamente come è naturale che sia la preparazione di questo evento, sicuramente disagi che si ripercuoteranno nell'attività economica del negozio e della città sicuramente. C'è troppo caos, troppo. Secondo lei si poteva organizzare diversamente? Organizzare molto prima, perché ormai siamo a 20 giorni, 25 giorni e ancora siamo, guardi che c'è là, guardi. I clienti si lamentano? No, i clienti si lamentano qualcuno, ma gli altri no, perché d'altronde il caffè lo debbono prendere, il cappuccino lo debbono prendere, la colazione la debbono fare, perciò non è che si lamentano tanto. Non ce n'è paura, non si sa quello che porta, l'importante è che viene e porta delle cose buone e Taormina cresce ancora di più, perché come tutti quanti sappiamo Taormina è la mamma della Sicilia. La forza dell'ordine è benissimo, ci sentiamo, credo, parlo per tutti più al sicuro, anche se non c'è un problema. Riguardo i cantieri è un problema, perché per noi cittadini è un problema non poter fare determinate strade. Un po' diversa dal solito, sì, un po' di confusione, un po' di problemini di viabilità, ma insomma tutto bene per ora. Siete convinti che comunque questa piccola rivoluzione porterà del positivo? Non credo sinceramente. Per le strade, stanno asfaltando le strade, insomma qualche lavoretto di pubblica utilità, ma per il resto non credo proprio.